Vorrei tornare, anche grazie all'ausilio delle slide che verranno trasmesse su una questione che è stata oggetto di discussione un po' nell'ambito delle varie sessioni dei nostri lavori, che è la questione dell'affettività. Però vorrei farlo a partire da una cornice che è diversa da quella che ci ha proposto la professoressa Palazzani nella sessione precedente, a partire da una cornice antropoetica, perché lo scenario antropologico che stiamo vivendo nel contesto infodemico, tecnocratico, è quello che ci hanno illustrato in qualche modo la professoressa Marina e Federico. Cioè il paradigma antropologico che prevale nella nostra cultura occidentale non è quello cristiano. Il paradigma antropologico prevalente è quello del postumanesimo, caratterizzato da quegli elementi di scissione fra corpo e mente, di non accettazione del limite che ci hanno prefigurato i relatori precedenti. La questione che vorrei rilanciarvi è come ridestare l'affettività umana, che è un'affettività che si sorregge su una visione dell'uomo che non è dualistica, ma unitaria, integrale, all'interno di una cornice antropologica così difficile da attraversare. D'altronde, e questo ce lo dice già la Gaudium et Spes, è fondamentale che la nostra illustrazione pastorale si collochi all'interno di una precisa visione antropologica. E potete capire bene che l'antropologia cristiana, rispetto all'antropologia transumanista che c'è stata illustrata, ha ben poco a che fare. L'invito allora che rilancio, anche sulla base di quello che raccogliamo della Gaudium et Spes, è quello di collocare la prassi pastorale in una specifica visione dell'umano. Per alcuni anni sono stato responsabile della pastorale di una scuola, 1500 studenti, e ai collaboratori più stretti raccomandavo di non cadere nella tentazione della ipertrofia progettuale, facendo molti progetti, mantenendo uno sguardo fisso sull'umano. ed è proprio la indicazione che ci viene dalla Gaudium et Spes, che le nostre azioni pastorali siano collocate in un orizzonte antropologico ben definito. E l'azione pastorale, soprattutto in ambito pedagogico educativo, riguarda la cura dell'affettività. Lo abbiamo ascoltato in questi giorni. Affettività è un termine particolare che indica un dinamismo di esser colpiti dal mondo e di rispondere a questo originario esser colpiti, ce lo dice il professor Vigna in un articolo su affettività e legami. Cioè l'affettività è un processo di dischiudimento, di apertura. Sono tornati questi, questo binomio apertura e chiusura, sono tornati più volte in questi giorni, no? Di fronte ad uno scenario tecnocratico e postumanista che prefigura la chiusura dell'umano nell'immanenza del sé, la chiamata, la sfida antropologica è quella di proporre una antropologia dell'apertura. e l'affettività indica proprio questo dinamismo con cui la persona umana, dall'immanenza del proprio sé, si dischiude alla dinamica della trascendenza, questo rapporto di dischiudimento alla trascendenza. E quindi l'affettività, in questo dinamismo di esser colpiti e aprirsi all'altro, vive all'interno di una prospettiva antropologica unitaria. E ce l'ha detto la professoressa Marine, no? Il postumanesimo si fonda essenzialmente su due presupposti. L'ascissione tra il corpo e la mente e la non accettazione del limite come tratto costitutivo dell'essenza umana. In realtà questa idea della scissione mente e corpo ha un suo fondamento filosofico che non è recentissimo. Se andiamo a bescavare nella storia del pensiero lo troviamo nella distinzione cartesiana fra res cogitans e res extensa, ma ancora prima nel dualismo platonico, nella distinzione fra mondo sensibile e mondo intellegibile. Forse anche, non forse direi, anche nella tradizione dell'agnosi cristiana è presente questa radicalità della scissione. Da un punto di vista antropologico questi due assunti portano l'uomo a due tentazioni che dobbiamo saper leggere, che ritroviamo negli sguardi, negli occhi dei nostri studenti o dei nostri allievi nei centri educativi. La prima tentazione è quella narcisistica. Narcisismo è chiusura nell'immanenza del proprio sé, ce lo siamo detti. E il contesto infodemico tecnocratico alimenta l'incapacità di aprirsi all'altro. Ce ne siamo accorti in modo particolare nel tempo pandemico. Qui ci sono dei riferimenti sul tema del narcisismo nei testi di Christopher Lash. Lash scrive un'opera bellissima, The Culture of Narcissism, è la cultura del narcisismo negli anni 70, ma anche lo psichiatra Vittorio Lingiardi lavora molto sul narcisismo come tratto costitutivo del post contemporaneo. Ecco, una tentazione che deriva dalla visione postumanista dell'umano è il narcisismo come incapacità di aprirsi, cioè incapacità di vivere l'affettività come apertura al mondo. Qui utilizzo un termine, anzi un'espressione apertura al mondo che è riconducibile ad un filosofo che è stato citato a me molto caro che è Max Scheler. Max Scheler definisce l'affettività come dinamismo di apertura del mondo, tratto peculiare dell'essere umano che lo distingue rispetto agli altri viventi. Aprire il mondo. E il mondo si apre in una unità che comprende corpo, mente e spirito. E non in quella dissociazione radicale e non accettazione del limite che ci propone invece il paradigma postumanista. Quindi da un lato la tendenza narcisistica, dall'altro la tendenza prometeica. Ricordate il mito di Prometeo, no? Per tendenza prometeica che deriva da questa visione antropologica intendiamo la capacità o meglio la tendenza a considerare l'altro che ci sta di fronte, non come un tu che ci parla, che invoca da noi una risposta e una responsabilità, direbbe Martin Buber, ma come un esso, come un oggetto da possedere e su cui esercitare una dinamica di controllo e di manipolazione. Questo ce lo dicono, queste argomentazioni ce le presentano molto bene Gunther Anders, ad esempio, nella famosa opera l'uomo è antiquato, abbiamo sentito parlare di inadeguatezza, no? Anders parla di vergogna prometeica. Abbiamo costruito degli artefatti tecnologici che sono molto più capaci di noi rispetto ai quali noi ci sentiamo inadeguati. Jonas invece parla di un imperativo etico della responsabilità, agire garantendo nel mondo le possibilità di una prosecuzione della vita umana futura. Il prometeismo è questa tentazione di considerare l'alterità come un esso su cui esercitare un controllo e una manipolazione. Ebbene, queste due tentazioni derivano direttamente dalla visione postumanista dell'esistenza. Quindi quando noi agiamo nei nostri centri educativi dobbiamo avere chiaro cosa stiamo combattendo, dobbiamo avere chiaro quali sono i paradigmi antropologici alternativi. Ai miei collaboratori della pastorale dicevo abbiate nel cassetto Buber, abbiate nel cassetto Scheller, sono i grandi manifesti che ci aiutano a combattere la visione dominante che sta capillarmente invadendo l'esistenza dei nostri giovani perché viene veicolata proprio dalle tecnologie. Rispetto a queste tentazioni, lo sappiamo bene, la risposta cristiana è quella di una visione dell'umano come totalità biopsico spirituale. L'uomo come totalità biopsico spirituale, l'essere umano come ente che coimplica in se stesso, che fa interagire in se stesso bios, psuche e geist, è spirito. L'essere umano come totalità che raccoglie in modo unitario e integrale corpo, mente e spirito. Capite bene che rispetto alla proposta postumanista che si sulla opposizione radicale di corpo e spirito il progetto di un'antropologia cristiana è diametralmente opposto. Dove lo troviamo questo progetto di un'antropologia cristiana? Mi sia consentito citare qualche autore che è stato già in parte preso in considerazione. Quest'idea dell'umano come totalità è presente nell'umanesimo integrale di Mounier e di Maritain, nel comunitarismo di Mounier e nell'umanesimo integrale di Maritain. Recuperiamo questi autori, ma è presente anche nella prospettiva dialogico-relazionale di autori come Martin Buber, ricordate in principio la relazione, parafrasando il prologo giovaneo. È un archeologos, ma come si configura questo logos? Il logos si configura come dinamismo relazionale, ma sempre nell'ambito del personalismo dialogico c'è Rosenzweig, Romano Guardini. E in ultimo abbiamo gli autori del personalismo fenomenologico. Ne cito due fra gli altri, Edith Stein e Max Scheler. Edith Stein e Max Scheler ci presentano questa visione dell'umano come totalità biopsico-spirituale. Ed è proprio da questi autori che vorrei ripartire essenzialmente per una rilettura della dimensione affettiva nel contesto del post-umanesimo. Tra l'altro fra, mi piace dirlo e sottolinearlo in questa sede, fra gli autori del personalismo fenomenologico va considerato anche Carol Wethila. Carol Wethila aveva fatto la sua tesi di dottorato su Max Scheler. La sua tesi di dottorato era un tentativo di applicare le categorie antropologiche scheleriane ad una visione cristiana dell'esistenza. Un altro testo, prima chiaramente della sua attività di magistero, era professore di etica, Carol Wethila, no? Ha scritto un testo, atto e persona, ve lo consiglio, in cui si ha quella prospettiva antropologica dell'umanità come compimento, come atto, come atto. Non come potenziamento, ma come compimento. E dove si trova il compimento della persona umana? E qui veramente arriviamo al nocciolo della questione. L'essere umano, ce lo dice Max Scheler chiaramente, si compie nella capacità di amare. L'amore rappresenta come vertice della vita affettiva dell'essere umano il compimento dell'umano. Il compimento dell'umano. Non è un caso che Scheler fa coincidere questa dinamica dell'amore con la capacità di apertura del mondo. Edith Stein dedica invece la sua tesi di dottorato, voi lo sapete bene, al tema dell'empatia. Das Problem der Einfühlung, 1917. Un testo da riscoprire. Perché è interessante questo testo? Non solo perché ci offre una lettura fenomenologica del vissuto empatico, ma perché ci fa comprendere che la dinamica affettiva dell'empatia coinvolge l'umano come unitotalità biopsico-spirituale. La dinamica affettiva nella quale l'essere umano è propriamente se stesso è una dinamica interale che coinvolge l'umano nella sua completezza di corpo, mente e spirito. Se andiamo a vedere molto velocemente l'articolazione del vissuto empatico per Edith Stein comprende questi tre momenti, l'emersione del vissuto, l'esplicitazione riempiente e l'oggettivazione comprensiva del vissuto esplicitato. Che significa? vi osservo, voi osservate me. Da questa osservazione emerge ciò che io sto vivendo e ciò che voi state vivendo. L'ansia piuttosto che la noi eccetera, ce lo richiamava prima Federico, no? Attraverso l'osservazione del corpo emerge ciò che quel corpo sta vivendo. Prima Federico richiamava la distinzione fenomenologica fra Leib e Körper, fra il corpo come organismo e il corpo come vissuto. ebbene l'esperienza dell'empatia passa attraverso l'osservazione dei corpi. Guardiamo i corpi dei nostri ragazzi che ci sono affidati perché attraverso quei corpi emerge il vissuto. Ma una volta che il vissuto è emerso occorre la seconda tappa dell'articolazione dell'empatia secondo Stein che è l'esplicitazione riempiente. Quel vissuto si esplicita e mi riempie. Io mi riempio del vissuto dell'altro. E questa è l'esperienza empatica, il riempirsi del vissuto altrui ma riconoscendolo come dell'altro. E qui c'è il terzo momento, no? L'oggettivazione, il momento dell'oggettivazione. Sono entrato nel vissuto dell'altro, ne prendo le distanze. Il tema della distanza è emerso più volte in questi giorni, no? Proprio per evitare relazioni affettive fusionali occorre il momento dell'oggettivazione. E questo riguarda gli educatori, gli operatori sanitari, no? Che sono chiamati a vivere le relazioni di aiuto e sono chiamati ad esercitare l'empatia e non devono limitarsi a lasciarsi sopraffare dal vissuto dell'altro. Occorre il momento del distanziamento che ci consente di affinare le strategie di intervento per soccorrere l'altro che ci sta di fronte. Vedete che in questa dinamica dell'empatia presentata da Edith Stein è presente l'umanità come totalità, per dirla con Mounier, Maritain, utilizzano questa espressione totalità figurale. L'altro riferimento è quello di Max Scheler. Scheler dedica un'opera al tema dell'affettività, si titola Vesen und Formen der Sympatie, Essenza e Forma della Sympatia, pubblicata in due edizioni, eccetera. Fatto sta che Scheler descrive il cammino dell'affettività umana come un cammino evolutivo che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito. Distingue una stratificazione della vita affettiva che va da un livello primordiale, arcaico dell'affettività, che è l'affettività unipatica, fino al vertice della vita affettiva umana, che è l'amore. Il compito educativo, il compito della Bildung, dice Max Scheler, è accompagnare attraverso una dinamica di testimonianza, for Bild, dice Scheler, la persona a vivere questo sviluppo da una fase arcaica dell'affettività fino all'apice dell'affettività, che è l'amore. Perché in quell'amore l'essere umano si compie come persona. L'unipatia chiaramente è il livello istintivo dell'affettività ed è un livello fusionale, unipatico. Vogliamo fonderci con l'altro, è l'eros, è l'eros. Nella dinamica unipatica non c'è distinzione fra io e tu, manca quello spazio fecondo e generativo della distanza. Però l'unipatia è naturale, pensate all'istinto materno nei confronti del neonato, no? È un istinto fusionale naturale. Quindi Scheler non è che vede negativamente l'unipatia, dice l'unipatia è una forma affettiva originaria che ci coinvolge come esseri interali e tuttavia deve essere trascesa dalla seconda tappa che è il cosentire, potremmo dire l'empatia, condividere il vissuto dell'altro riconoscendolo in quanto dell'altro e infine l'amore. L'amore rappresenta il compimento della vita affettiva per Scheler e in quanto compimento della vita affettiva anche atto personale. L'essere umano, dice Scheler, lo vediamo attraverso quest'ultima citazione che commento e con la quale veramente vado a concludere, rappresenta la bestimmung, la destinazione, il compimento dell'umano. E non è un compimento umano che si fonda sulla negazione del limite, non è un compimento umano che si fonda sulla scissione narcisistica e prometeica dell'io tra mente e corpo. Perché amare comprende tanto la dimensione erotica dell'unipatia quanto la dimensione agapica dell'amore spirituale. Non è un caso che Scheler e poi Guetila che aveva fatto la sua tesi di dottorato su Scheler definiscano l'essere umano come Hans Amans, essere di amore. Scheler in questa citazione che vi riporto definisce l'amore come movimento intenzionale e atto spirituale. Mi limito a commentare questa espressione. L'amore è un movimento, quando dice intenzionale chiaramente Scheler si riferisce alla categoria usserliana di intenzionalità che è la disposizione al rivelarsi del mondo, al mostrarsi del mondo. Dire che l'amore è un movimento significa ammettere da un punto di vista filosofico e non teologico che l'amore ci spodesta da noi stessi e ci porta al di fuori di noi. L'amore è un dinamismo di apertura, dinamismo di apertura, di schiudimento e in questo dinamismo noi siamo portati oltre noi stessi, siamo portati alla dimensione della trascendenza. Ma oltre ad essere un movimento intenzionale è anche un atto spirituale. Movimento intenzionale è apertura all'altro, più specificatamente Scheler dice apertura al valore dell'altro. Amare significa, secondo la prospettiva scheleriana, ma ripresa poi quasi pedisseguamente da Guitila nei suoi scritti, amore significa mettere l'altro nelle condizioni di rivelare il proprio valore. Vert, il proprio valore. Però in questo dinamismo di schiudimento all'altro c'è un atto. Sapete atto è un termine della tradizione aristotelica, poi neotomista, neotomista. L'atto è il compimento. Opposto alla perfezione di cui abbiamo parlato nell'ambito postumanista. Nel farmi fuori di me mi compio. È questo l'orizzonte antropologico del cristianesimo. Farsi fuori perché farsi al di fuori, portarci al di fuori di noi stessi, rompere quella tentazione narcisistica che ci ambita, ci compie come persone. Ci compie come persone. Ed è questo dinamismo dell'amore che, secondo Scheler, va guidato da un rapporto di building, di formazione. Questo è il nostro compito. E qui veramente chiudo. Siamo di fronte ad uno scenario antropologico che ci fa paura. A me fa paura quello che i colleghi hanno giustamente descritto. Dal mio punto di vista sarò abbastanza radicale nel dirlo. L'alternativa non è tanto fra umanesimo integrale della tradizione cristiana e postumanesimo. L'alternativa è tra umanesimo cristiano e non umanesimo. Il postumano è una visione ideale, è l'idea che sta al di sopra della realtà, per dirla con Papa Francesco. Una prospettiva invece interale che dobbiamo educarci a coltivare nelle nostre letture, nei nostri studi, ci restituisce una visione dell'umano che è il limite. E il limite, c'è stato detto, non è una barriera, il limite è la soglia, la soglia del trascendimento, la soglia dell'apertura all'alterità. Non è un caso che nell'omnes fratres Papa Francesco distingua le ombre di un mondo chiuso e le dinamiche di un mondo aperto, le categorie sono quelle. Il mondo chiuso è quello tecnocratico della tentazione postumanista che vuole dissociarci, vuole rompere quell'unità che ci appartiene per portarci verso una direzione che, dal punto di vista della mia fede filosofica, non esiste. E invece l'alternativa è quella di una prospettiva antropologica cristiana che nel vedere l'umano come totalità biopsico-spirituale lo concepisce come realtà reale dotata di limite, ma in questo limite riconosce anche un'apertura alla trascendenza. Allora per questo volevo ritornare sul tema dell'affettività, perché l'affettività diventa, l'educazione all'affettività diventa il canale privilegiato, direi l'antidoto per contrastare la sempre più pervasiva visione postumanista dell'esistenza. Buon lavoro a ciascuno, il compito è arduo. Buon lavoro a ciascuno, il compito è arduo.